Il cantautore Enrico Ruggeri è il direttore artistico di Marotta Mondolfo. Questa mattina l'investitura è la presentazione del neocomitato di albergatori che promuoveranno la località balneare tutto l'anno. Samuele Sabatini. Io ho semplicemente raccolto l'invito di alcuni amici che mi hanno detto di mettere la mia esperienza a vantaggio di Marotta. Io posso farlo organizzando delle cose, aiutando, dando consulenze, raccontando qualcosa sulla musica perché poi il mio settore è la musica, sicuramente renderemo Marotta una città un po' più vicina alla grande musica. Immagino, se hanno chiamato me, al rock, alla musica d'autore, a cose di questo genere. Qualche idea per questo nuovo incarico? Musica, valorizzare la doppia caratteristica perché Marotta è Marotta Mondolfo quindi abbiamo un mare particolare del quale ci si innamora perché non è un mare con 32 file di ombrelloni, ti puoi divertire ma puoi anche stare tranquillo. Però abbiamo a pochi chilometri la collina, panorami, altri posti dove si mangia benissimo, altra gente simpatica, una bellissima cittadina come Mondolfo. Una chiave è il mare a 5 stelle, i simboli impressi nel logo del neocomitato costituito da 19 strutture ricettive tra hotel, alberghi e bed and breakfast e che vuole rilanciare il turismo balneare tutto l'anno con il brand Marotta Mondolfo. Insieme vogliamo supportare anche le altre associazioni in modo da dare un'offerta a 360 gradi, 365 giorni all'anno. Quindi Marotta, mare tutto l'anno? Marotta, mare tutto l'anno e soprattutto mare d'inverno.